Green Pass per tornare a sciare senza limiti. La possibilità di utilizzare il Green Pass per seggiovie e funivie è stata introdotta nel degreto Green Pass bis dal Movimento 5 Stelle e vede come cofirmatario degli emendamenti il deputato abruzzese Gianluca Vacca. La certificazione verde potrebbe essere lo strumento per far ripartire le stazioni abruzzesi provate dalla crisi covid. Gli operatori turistici sono concordi e lo avevano pure chiesto. Per il deputato pentastellato con il Green Pass non ci sarà alcun limite alla vendita di biglietti per funivie e seggiovie e così potrà ripartire anche il turismo invernale che all'Aquila e provincia è fondamentale. Novità importanti per quanto riguarda il settore del turismo invernale che ricordiamo viene da due stagioni in cui gli impianti purtroppo sono rimasti chiusi a causa delle misure di contrasto alla pandemia. Quest'anno invece stiamo lavorando per una piena ripartenza per quello che è uno dei settori più importanti anche per l'economia della nostra regione. È stato approvato nel giorno scorso un emendamento al decreto sostegni bis anche a mia firma che prevede la possibilità per gli impianti di utilizzare il Green Pass e senza limitazioni di posti quindi senza nessuna limitazione per quanto riguarda la capienza degli impianti. Una misura importante richiesta dagli stessi operatori che siamo certi di aiutare il comparto a ripartire questa stagione la prossima stagione con più slancio e con grande vigore. Lo stesso ministro del turismo Massimo Garavaglia aveva proposto di usare per le stazioni scistiche le stesse regole per i ristoranti al chiuso. I numeri dello scorso anno parlano chiaro. All'Aquila c'è stata la neve ma non si è potuto sciare. Quest'anno bisogna far sì che l'inverno possa invece essere produttivo come l'estate. Per Vacca questa possibilità è molto importante e ora l'accoglimento degli emendamenti in commissione è un segnale fondamentale. Questo perché la stagione invernale e la vita delle stazioni scistiche è linfa vitale per le aree interne abruzzesi. Del resto gli operatori lo chiedevano da tempo, regole certe per ripartire senza penalizzare un intero settore.